Un caro saluto da Mario Giuliacci, il tempo previsto per giovedì 21 settembre. Finalmente una perturbazione atlantica, decisa, raggiunge il centro-nord dell'Italia. Ancora caldo al sud e isole, dove ancora resiste l'anticiclone africano. Il tempo previsto, rovesce temporali sulle Alpi, Triveneto, Lombardia, Liguria, regione centrale Campania. Isolate temporali anche sulla Puglia e sulla Calabria. Massimo intorno a 24-27 gradi al centro-nord, 28-31 al sud e isole maggiore, 33 gradi sulla Sicilia. Vi ricordo di scaricare dall'home page del nostro sito la nostra app che è molto semplice da usare.